Questa mattina mi trovo anche con Ivano Carcano, responsabile dello Spirito del Pianeta. Raccontaci un po' di questa iniziativa, Ivano. Beh, è un luogo in cui i popoli indigeni possono raccontarsi, possono raccontare che esistono ancora e che secondo tutti noi è fondamentale che sopravvivono per il nostro futuro, perché stiamo andando verso Marte e ci stiamo dimenticando un po' tutti da dove arriviamo. Per cui magari è anche una maniera per noi, per cercare di ricordarsi della nostra cultura, della nostra tradizione, per potersi confrontare con loro che sono coloro che appunto hanno le antiche conoscenze primordiali e che molto spesso sono quasi gli unici che in molti territori lottano per la sopravvivenza della madre terra di quei territori. Per cui noi ci facciamo magari un po' prendere troppo spesso dallo sviluppo e ci dimentichiamo che magari in certe occasioni alcune situazioni dovrebbero essere preservate più che le materie prime che magari su quel territorio ci sono all'interno. Per cui è una maniera proprio di riconnetterci per noi con la madre terra, con i nostri antenati, con la nostra parte così culturale e tradizionale ed è una loro voce. Per cui in un contesto come il Latin Festival è sicuramente una parte importante, dove c'è un gemellaggio fra il divertimento ma con dei momenti di spunto di riflessione. Quali sono le origini di queste popolazioni indigene? In questo caso noi avremo ospiti gli Astechi del Messico, nel cui situazioni millenarie come ad esempio l'Indios, il Diavala Pt del Brasile, avremo i Mapuche del Cile e avremo anche un gruppo di Shuar dell'Amazonia e dell'Equador. Sono tutti un pochettino popolazioni che vanno appunto dalla Patagonia fino al Messico con varie situazioni di clima, di paesaggi che però tutti sono connessi appunto con le loro antichissime tradizioni e questo è un pochettino quelli che le unisce e che ovviamente rappresentano le prime nazioni della Sud America. In questo modo noi inaugureremo il 13 giugno il Festival come una sorta di benedizione per la nostra quinta edizione. Assolutamente sì, infatti quello che loro faranno è un po' come se fosse un po' la loro cerimonia, per cui riportano qua da noi quei momenti cerimoniali che tutti i giorni quotidianamente fanno nei loro territori. Per cui la prima cosa che molto spesso noi ci dimentichiamo è ringraziare. Ringraziare chi ci ha permesso di essere qua come i nostri antenati, come il Creatore e in una bellissima casa come la Terra, per cui vedrete che in quel momento cerimoniale loro faranno tutte queste cerimonie proprio dedicate a queste entità. Grazie Ivano Carcano, io ti ringrazio, visto che la principale cosa è ringraziare per essere con noi durante tutto il Festival e per accompagnarci in questo percorso culturale che ci arricchisce solamente. Grazie mille a voi perché l'Hatin Festival dà voce agli uomini invisibili. Grazie. A voi.